Allora ragazzi, oggi voglio parlarvi di Negozio Senza Glutine, che è una piattaforma e-commerce ma che comunque si trovano qui a Milano, qua vicino, ed è dedicata proprio ai prodotti senza glutine. È stata la prima in Italia a consentire la conversione del buon asle di quella ciriaca online. Per loro, comunque, per le persone ciriache, hanno un assortimento di prodotti artigianali, quindi parliamo di pane, pizza, focaccia e biscotti, e mi hanno mandato tantissimi prodotti che adesso vi farò vedere. Un'altra cosa volevo dirvi, allora, fanno la consegna a domicilio, ordinandolo online, lo ricevete a casa, oppure comunque lo ritirate in negozio e potete fare l'ordine tramite telefono, ovviamente sul sito troverete tutti i prodotti. Allora, abbiamo questi biscotti di qua, che vengono chiamati i viennesi, qui comunque sono sempre prodotti artigianali e senza glutine. Poi abbiamo questi di qua, che sono le lingue di gatto, sempre con tutta la loro descrizione e quello che contengono. E poi abbiamo questi di qua, che sono già magnifici a versi, che sono i zeretti. Dopodiché abbiamo questi biscotti da tè, fantastici. Poi qui abbiamo la farina caputo, questa farina veramente, ragazzi, è fantastica, fa delle pizze eccezionali, quindi vi consiglio. E questa appunto è quella alla particolare, che appunto è senza glutine, quindi ancora più leggera che verrà la pizza. Poi abbiamo questi biscotti al cioccolato fondente e zucchero di canna, ovviamente sempre senza glutine. Abbiamo anche questo pane a fette per tramezzini, fantastico. Poi abbiamo questi conchiglioni, 11 minuti di cottura, ovviamente sempre senza glutine. Poi abbiamo questa di qua, che in teoria è la pasta rustica, ma in realtà è una pasta fresca, stabilizzata, dietetica, senza glutine. Poi abbiamo ancora questo di qua, che è una farina per il mix pane, pizza e dolci, senza glutine sempre, poi abbiamo questi che sono i cereali di mais affogati al caffè, contengono l'omega 3, fantastici perché sono senza glutine, senza frumento, senza arachidi, cioè fantastico per mantenere la linea. E poi abbiamo questi di qua, che sono i biscotti d'avena senza glutine. Grazie a tutti.